Per ottenere i due deltaplani, dovrete partecipare alle coppe in classifica. Ottenendo almeno 75 punti in qualsiasi sessione delle coppe in classifica dal 9 al 12 novembre per ottenere ala lama del contendente. E ottieni almeno 75 punti in qualsiasi sessione dal 23 al 26 novembre per vincere ombrello temporale del concorrente. Questi deltaplani hanno un design dinamico che sfoggia il colore della posizione più alta che hai raggiunto questa stagione in rampta. I giocatori potranno partecipare come squadra, come coppia oppure in singolo per affrontare avversari con la stessa posizione, sia in battaglia reale sia in zero costruzioni. Per le competizioni in coppia e in squadra, anche i giocatori in singolo potranno partecipare venendo associati ad altri giocatori in singolo di rincalzo.